allora passiamo alla crystal questi sono stati i miei acquisti che ho fatto per quanto riguarda la crystal e allora il mio primo acquisto è stato questo allora l'avevo ordinato da casa giorno prima ho fatto così perché ho visto che prendendolo online lo pagavo 17 euro mentre che la in fiera lo pagavo 22 euro e qualcosa allora ho detto cavolo mi conviene e prenderlo online e ritirarlo e al costo allora ho girato dappertutto perché non riuscivo a trovare le stand dove andare a ritirarlo pensate ragazza dovevo ritirarlo e era da dove sono entrata solo che quando siamo entrati siamo entrati giù non ho guardato a sinistra che c'era le stem proprio con questa immagine era tappezzato con questa immagine qua di Irene Merlo allora cercando cercando e siamo andati dentro in fiera ho guardato di qua avevo fatto già degli acquisti ma in testa avevo solo una cosa andare a ritirare il mio libro e allora ho visto le stand della crystal li sono andata a chiedere informazione mentre stavo chiedendo informazione c'era Avramo che stava facendo la diretta mi sono una corta dopo che stava facendo la diretta e ho detto ciao Avramo lui si è girato e allora mi ha detto ciao ragazza ascolta visto che lo avevo gli ha disturbato ma pensa Avramo è molto simpatico sto cercando le stemme dei rene per andare a ritirarmi il libro ma è nella nell'entrata Michelino ma sono entrata da lì sai cosa mi ha detto in diretta quello è stato a me allora cambio occhiali mi ha detto io sì ok è vero e io non l'ho visto nella fretta ad entrare in fiera io sono entrata e non ho guardato da quella parte invece e sono andata lì a prendere mio libro e lo ritirate quello qua è un libro molto bello che vi consiglio ad acquistare come vedete io già ho iniziato a leggere molto bello è un libro veramente che chi segue i reni e che l'ha avuta come insegnante e qua a un altro pezzo di lei io ho avuto il piacere di di conoscerla perché ho fatto vari corsi con lei e anche ho partecipato a un meeting è molto carina qua dentro questo libro racchiude un po tutto tutto quello che lei veramente è tutto quello che ha conquistato e tutto quello che ha è grazie alla sua alla sua forma alla sua umiltà alla sua grinta alla sua voglia di fare e di arrivare è anche una persona che non si sente arrivata ragazzi a differenza di tante e insegnanti tante master che pensano sono il top per me questo è il top e lei non se ne rende conto e bene che sia così perché quando la irene fa dei corsi chi l'ha avuta può come insegnante può confermare sta roba qua da il meglio di sé se ragazzi io quando ho fatto lo one move 2 con lei c'è stata lì fino che io non ho fatto un fiorellino decente mi ha prestato perfino i suoi pennelli capito a una che non sapeva neanche come tenerlo in mano io ho lavorato con i pennelli delle irene l'ho avuto a fianco perché ogni volta veniva lì a vedere come comandava e quando ho fatto anche il corso del secondo livello gel uguale cioè io li faccio le unghie mia figlia e mia figlia mi dice tutte le cose mi ricorda tutte le cose che diceva l'irene cioè se mia mia figlia sembra che ha fatto lei il corso ogni tanto mi tirate quelle battutine che io io rido l'altro giorno stavo facendo le unghie mi ha tirato fuori di quelle cose invece irene ha detto così è mai stai facendo quella cioè bellissimo per cui i suoi insegnamenti arriva arriva veramente a tutte le persone che erano lì durante quei due giorni secondo me come me hanno portato un pezzo grosso anche dire neanche dell'altra insegnante che era lì che era molto brava erano e molto brava però sapete ogni tanto uno si affiziona di più a un'altra persona a una persona perché la conosce di più perché la segue di più è stata la prima volta che io ho fatto un corso anche con l'altra insegnante che adesso non ricordo il nome ma lo metterò qua in sopra impressione e allora perché no perché non comprare il suo libro io l'ho fatto mi sto trovando molto bene lo sto leggendo e poi quando ho avuto il libro nelle mie mani mi hanno considerato le ragazze le letizie che saranno due letizie e di fare la foto e targarla che dopo questa foto qua faranno un'estrazione per un terzo livello e gente mi andrebbe benissimo poi visto che ho fatto il secondo mi andrebbe benissimo anche una cartolina da compilare e ogni sera dopo che finiva il cosmo però andava lì l'irene e pescava i nomi delle ragazze che hanno vinto il secondo livello fortunatissime queste ragazze perché io ogni volta la sera andavo lì a guardare però va bene niente questo è il libro l'irene mi ha fatto una dedica bellissima che lì e l'ho cercata sono andata là alle stand e dove lei stava facendo una dimostrazione ho aspettato e gli ho detto sì per cortesia poteva farmi una dedica è stata bellissima ho una foto e c'è anche solo sul video che ho fatto lei mi ha detto è una cosa stupenda abbiamo due facce proprio che stiamo ridendo di gusto bella 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 e sono molto contenta che altro ho comprato solo queste tre robettine qua che avevo bisogno è stata una roba bellissima perché sapevo cosa dovevo fare ho visto nell'attimo lì che non c'era quasi nessuno perché c'erano master che stavano insegnando delle cose particolari io non potevo fermarmi e allora c'era il vuoto lì allora ho preso le cartine le solite cartine che mi trovo molto bene ho preso il cover refi art che in tantissime lo conoscete e stiamo amando è molto bello ha una bellissima colorazione naturale che va benissimo per un po tutte le carnagioni e poi ho preso questo per fare l'effetto baby boomer devo mettermi in capo fitto a fare sta roba qua perché ogni tanto me lo chiedono ancora non sono molto contenta del risultato e vediamo un attimo aspettate un attimo perché qua sta colando tutto vedete che c'è il filo molto lattiginoso vai fermati su ok dopo pulivo e guardatelo qua e allora sono stati questi i prodotti che avevo preso di la crista e niente siamo arrivati alla fine anche di questo video e spero vi sia piaciuto lasciatemi sotto i vostri commenti come avete potuto vedere e sentire del video sono molto contenta di mio acquisto e soprattutto del libro delle Irene è un pezzo mio personale il quale ci tengo in oppresso a nessuno e niente ragazzi lasciatemi sotto i vostri commenti se avete delle cose non chiare e vi invito a guardare i video precedenti e anche i successivi per quanto riguarda i miei acquisti al Cosmo Prof ciao e al prossimo video